Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti nuovamente sul mio canale. Questa volta affrontiamo un video molto particolare sul come affaticare il meno possibile gli occhi durante il lavoro in studio. Finalmente ci vedo e sono in grado di fare quindi nuovi video. Come avrete notato sono alcuni mesi che i contenuti sia sul canale sia nei corsi erano fermi. Questo era dovuto ad un problema che si è presentato nel novembre 2022 quando presi per la seconda volta il covid in una nuova variante che in combinazione con un picco glicemico mi ha fatto diventare quasi cieco da un occhio quindi dall'occhio destro. Nel giro di una settimana dei miei soliti dieci decimi sono passato a circa due decimi quindi vedevo tutto completamente appannato. Non riuscivo a distinguere il volto delle persone. Vedevo praticamente una palla rosa con il naso ed i capelli. Non ero in grado quindi di distinguere appunto il volto quindi tratti somatici del viso. Ho avuto conseguente perdita della profondità e bisogno ovviamente di assistenza anche solo per riempire la macchinetta del caffè. Figuriamoci guidare l'auto o scendere le scale. Purtroppo questa perdita della visibilità non era risolvibile con un nuovo paio di occhiali e vi racconto brevemente la storia di quello che è successo per scusarmi ancora pubblicamente con tutti voi che mi avete scritto per chiedermi lumi su alcuni video mancanti del corso di Acustica Audio e ovviamente la mancanza di altri video sul Patreon quindi sul mio canale Patreon o su questo canale. Come vedevo questa è stata la prima domanda che mi è stata posta da molti di voi vi mostro esattamente come erano le condizioni del mio occhio destro per cui da un lato quindi l'occhio sinistro 10 decimi dall'altro 2 decimi tutto completamente appannato e una estrema ipersensibilità alla luce quindi quando era giorno appunto con il sole o anche guardare una semplice pagina bianca come quella che vediamo adesso offuscava tutto il resto in maniera totale. Mi sono trovato quindi a dover razionare il tempo di lavoro davanti al computer e delegarlo soltanto all'uso dell'occhio sinistro quindi praticamente ho lavorato dalle 8 di mattina fino a mezzogiorno dopodiché iniziavano il mal di testa e l'affaticamento dovendo interrompere la ripresa e l'editing dei video che trovate sul canale perché appunto molti non lo sanno ma editing di video richiede tantissime ore supplementari di lavoro. Durante la prima visita di controllo una dottoressa di cui non farò il nome di un poliambulatorio di Roma a Torrino di cui non farò il nome mi diagnosticò un distacco del vitreo asserendo che avevo subito quindi un trauma e che forse con il tempo si sarebbe sistemato prescrivendomi nel frattempo degli integratori al collagene integratori che probabilmente non avrebbero funzionato in nessun caso. Faccio il fonico come sapete non l'oculista e quindi mi sono fidato ma tornando a casa ho fatto un salto su google cercando sintomi del distacco del vitreo e scopro di non averne neanche uno. Prenoto per cui una seconda visita a pagamento presso l'Umberto I ed il medico guardandomi attentamente si pronuncia con cataratta precoce posteriore e mi chiede chi avesse dato la laurea alla dottoressa di prima. Esco di lì ancora più dubbioso e quindi prenoto una terza visita a pagamento per fare lo spareggio e quindi ottenere un terzo parere da un chirurgo forse alle prime armi che si trovava appunto all'ospedale oftalmico di Roma e anche lui comunque mi conferma che la cataratta è posteriore ed è ben visibile. Causata però secondo lui dal cortisone inalato con l'Aerosol durante il trattamento del covid di novembre al che mi metto in lista urgente per l'intervento urgente perché appunto avevo bisogno di tornare al lavoro a che il chirurgo prenota la visita per giugno quindi prima dell'estate. La lezione che ho imparato da questo è di non fidarsi mai di un solo parere medico quindi anche in condizioni che sembrano meno gravi secondo me è sempre meglio avere due o tre pareri da medici diversi. La cataratta subcapsulare posteriore si forma in prossimità della parte posteriore del cristallino si crea un'ombra quindi proprio nel punto in cui la luce dovrebbe passare per raggiungere la retina. Dalle statistiche sappiamo che una persona su due soffre di questa patologia ma dopo i 75 anni. Mi metto quindi l'anima in pace mi scuso con tutti voi su facebook e continuo a devastare l'occhio sinistro per mezza giornata. Arrivati a giugno telefono nuovamente all'oftalmico chiedendo l'appuntamento e mi rispondono che hanno troppe persone in lista e che mi avrebbero spostato a dopo novembre. Il chirurgo sparisce non risponde più ai messaggi ed io rimango appeso. La situazione era abbastanza disperata l'occhio sinistro rischiava di essere danneggiato o compromesso così iniziai a chiedere ad amici e parenti un consiglio su chi potesse fare questo intervento a pagamento in tempi brevi. Ormai sperare nella sanità pubblica a mio avviso è abbastanza folle. Ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno dato dei consigli e degli indirizzi a cui rivolgermi perché i preventivi variavano dai 2.500 euro fino ai 3.900 euro ad occhio. Il prezzo ovviamente varia in base da chi e dove viene eseguito l'intervento e alla tecnica utilizzata. Sto spiegando questo per darvi modo di poter affrontare i problemi alla vista anche con dei trucchi che vi mostrerò tra breve. Finalmente vengo in contatto con Roberta Catalani, primario di chirurgia ottica fate bene fratelli che mi visita rapidamente. Concordiamo l'intervento per il 20 luglio, la settimana più calda del pianeta, con la tecnica di faco emulsificazione con gli ultrasuoni. Un fonico che viene curato con gli ultrasuoni è abbastanza divertente. Intervento durato 15 minuti circa in anestesia locale, quindi soltanto il bulbo. Nuova lente intraoculare, il pausch e l'omb e sono tornato nuovo il giorno stesso. Questa tecnica è meno invasiva rispetto a quelle del bisturi o del laser e la vista torna immediatamente. Vi metto il video di un intervento identico trovato qui su youtube così potete vedere come funziona il sistema degli ultrasuoni che spacca il cristallino e poi viene aspirato via. Lascio a voi le considerazioni sul sistema sanitario nazionale questa esperienza mi ha portato a dover pensare ad una assicurazione sanitaria privata. La vista è come prima? Ni. I gradi sono sì quelli di prima ma c'è comunque una nuova lente artificiale che filtra la luce diversamente da quella naturale. Di conseguenza c'è una differenza nella percezione dei colori più limitata nelle gradazioni del colore. Il fattore è riscontrabile sui colori bianco e blu e ovviamente le relative sfumature. Il bianco è più bianco quindi come quando scegliamo una lampadina ad esempio luce calda o luce fredda e a distanza di due mesi riesco a fare nuovamente il mio lavoro in tutta tranquillità. Nel periodo invece della convalescenza che appunto durava un mese o poco più ho dovuto evitare completamente la luce diretta negli occhi e portare sempre gli occhiali da sole anche in casa e ovviamente utilizzando diversi tipi di gocce nel frattempo. Il cervello probabilmente si adatterà a queste differenze di colori e messa a fuoco intermedia ma rispetto a non poter vedere quindi a non aver più la percezione della profondità siamo anni luce avanti. Andiamo ora ad affrontare il core del video quindi come affaticare meno gli occhi durante il lavoro in studio. Eccoci quindi nella parte del video che secondo me aiuterà tantissimi di voi ad affaticare meno la vista. Già nella progettazione iniziale dello studio che vedete qui alle mie spalle facemmo montare dei led laterali per rendere la luce più diffusa possibile e calda possibile lasciando quindi lo stress ottico esclusivamente al monitor del computer perché anche la luce diretta da sopra è abbastanza fastidiosa quando si riflette sulle superfici davanti. In questo momento sto utilizzando dei led blu perché migliorano la visualizzazione del video quindi la cattura del video da parte della fotocamera mentre normalmente utilizzo la colorazione bianca che riflette il soffitto rosso rendendo tutto un po' più rosa crema e questo è estremamente rilassante durante le fasi di lavoro qua in studio. Rimetto il blu per lavorare poi qui sul video. Il secondo passo è quello di utilizzare colori scuri all'interno della Do. Come avete visto sempre dai miei tutorial studio One è già fatto in questo modo e l'ho impostato sempre nelle preferenze sotto generali appearance e qui sotto questa è la gradazione che utilizzo spesso. poi qui possiamo regolare appunto la gradazione del colore e renderlo ancora più dark del solito diciamo. Lo stesso discorso per quanto riguarda appunto anche l'arrangiamento che poi vedremo all'interno appunto della della song. In questo modo riesco appunto i plugin in modalità dark e anche lo score volendo in modalità dark o light. Questo aiuta tantissimo l'occhio a utilizzare appunto la do per tante tante ore. Alcune applicazioni prevedono già un dark mode come ad esempio Scrivener che è il software che ho utilizzato in questo periodo per scrivere un nuovo libro e anche il manuale che trovate all'interno dei corsi di ProAudioLearning.com e sul mio Patreon riguardante il mix quindi alcuni trucchi per il mix. Come vi dicevo ho utilizzato Scrivener in dark mode per comporre il mio nuovo libro che uscirà a Natale che riguarderà la famosa diatriba tra Commodore 64 contro ZX Spectrum. Ne parleremo poi in altri video dedicati proprio al libro e ovviamente oltre ai software che appunto sono quello della posta come ad esempio Eudor che adesso si chiama Thunderbird e quindi che utilizzo in modalità dark come anche tutti i software di editing blocks, InDesign eccetera eccetera. Ma la differenza sostanziale l'ha fatta un plugin per il browser che si chiama Nighteye. Nighteye praticamente trasforma tutti i siti web che sono in bianco quindi in modalità bianco su nero in modalità nero con scritture bianche e di conseguenza fatica enormemente gli occhi. Questo tipo di plugin appunto viene applicato su ogni browser che noi utilizziamo e ci permette di lavorare in maniera estremamente più rilassante consultando i siti web che non prevedono il dark mode come ad esempio Wikipedia, Amazon, Ebay eccetera eccetera. Lo lascio installato perché così lo continuerò ad utilizzare in futuro. Ovviamente tutto ciò che rende scuro il monitor comporta degli altri vantaggi oltre a quelli appunto dello stress della vista. Il vantaggio primario è il risparmio enorme di energia quindi il surriscaldamento del monitor e ovviamente se avete un computer portatile un risparmio enorme di batteria che spesso arriva fino al 50 per cento in più. L'applicazione Nighteye è a pagamento io ho comprato la versione diciamo Ultimate che verrà sempre aggiornata al costo di 40 dollari ma potete provarla gratis per diversi siti web oppure pagare 9 dollari l'anno per poterla appunto utilizzare durante l'anno o nei periodi in cui per esempio lavorate soltanto col computer portatile avete necessità di risparmiare la batteria. Ritornando ai miei video non sono stato completamente fermo nel frattempo ne ho girati alcuni ma non sono stato in grado di editarli. Era impossibile per me inoltre leggere i manuali dei plugin e delle apparecchiature perché come sapete dai miei video io leggo il manuale interamente per poter fare un video molto accurato e preciso. Evito sempre di fare video inutili. A settembre ho iniziato a fare appunto l'editing dei video già registrati per tornare ad una pubblicazione settimanale. Ho inaugurato il ritorno alla vista con un concerto splendido che ho fatto con Vittorio Grigolo e l'orchestra di Demo Morselli a Ravello lo scorso 30 agosto e sono tornato subito in studio per preparare le novità che appunto vi saranno sicuramente utili. Già in questo mese vedremo sicuramente una nuova stagione di JGR Caffè questa volta in compagnia di illustri ospiti e nei primi video vedremo appunto Pasquale Minieri o Ugo Zuccarelli e tantissimi altri che mi hanno aiutato nelle considerazioni di alcuni topics abbastanza importanti. Come vi dicevo trovate già un manuale con dei trucchi sul mix all'interno di tutti i corsi ProAudioLearning.com e sul mio canale Patreon mentre farò nuovi video su nuove apparecchiature per esempio ho fatto degli upgrade qui in studio in questi mesi come il nuovissimo convertitore Ferrofish A32 Pro che non vedo l'ora di mostrarvi che utilizzerò nei nuovi video sul Game Stage e sulle connessioni digitali. Ci saranno nuovi video sul mix in cuffia e sul mastering. Vi ringrazio ancora per la pazienza e mi scuso nuovamente per aver rallentato il lavoro sui canali. Per il momento è tutto ciao a presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito ProAudioLearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto ciao a presto.